I funerali della regina Elisabetta saranno un evento storico di portata mondiale Qui tutte le info su dove, come e quando seguirli in tv i funerali della regina Elisabetta saranno trasmessi in tv La sovrana d'Inghilterra è venuta a mancare lo scorso 8 settembre a 96 anni, dopo ben sette decenni di regno Al suo posto, ora il figlio Carlo, incoronato Carlo III, con la regnante consorte Camilla Parker-Bolls al fianco Quando si terranno le esequie di Elisabetta II e dove sarà possibile seguire la cerimonia in tv? Qui tutti i dettagli e le informazioni a riguardo Leggi anche, regina Elisabetta e Camilla Parker-Bolls in che rapporti erano? Quelle parole contro la nuora non deve esserci in mia presenza quando saranno i funerali della regina Elisabetta I funerali della regina Elisabetta II si terranno lunedì 19 settembre presso l'Abbazia di Westminster Naturalmente, sarà possibile seguirli in diretta tv anche qui in Italia Dove vederli in Italia? I funerali della regina Elisabetta II si terranno lunedì 19 settembre e sarà possibile seguirli in tv anche qui da noi su Rai 1, Skit24 e Rai News In alternativa, sarà possibile collegarsi al sito della BBC per assistere alla cerimonia in diretta Data, canale, orario i funerali della regina Elisabetta II si terranno lunedì 19 settembre presso l'Abbazia di Westminster L'ultimo viaggio della sovrana che ha regnato sull'Inghilterra per 70 anni, venendo a mancare all'età di 96, sarà trasmesso in diretta in tutto il mondo, Italia compresa Oltre alla possibilità di assistere alle esequie funebri sul sito della BBC, la tv non si tira certo indietro, qui da noi saranno, infatti, trasmessi in diretta su Rai 1, Skit24 e Rai News a partire dalle ore 12, 11, ora inglese Anche Carlo III, nuovo re del Regno Unito, presenzierà naturalmente alla cerimonia funebri al fianco della reggente consorte Camilla Parker-Bones Tutta la Royal Family si riunirà, nonostante i dissapori che l'hanno divisa negli ultimi anni, per porgere l'ultimo saluto alla regina Elisabetta II Sarà un evento dalla portata storica che catalizzerà l'attenzione non solo dei sudditi britannici ma dei telespettatori di tutto il mondo Esattamente come accadde per i funerali della mai dimenticata Lady Diana, prematuramente in quel terribile incidente stradale sotto al tunnel dell'Alma di Parigi nel 1997 Seguici su Instagram cliccando qui Grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione per farci discutere di seguito Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video, ciao